a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale come state mi auguro bene ragazzi ci avviciniamo finalmente al campionato finalmente finalmente perché perché meno uno alla fine di questo campionato se vinciamo ci avviciniamo a questo obiettivo della champions altrimenti comunque qualcosa dire c'è in queste due settimane c'era ben poco da dire però qualche provocazione di mercato qualche suggestione c'è e parliamone insieme commentiamo insieme queste notizie senza avere la presunzione di dire questo arriverà di sicuro alla juve questo no quest'altro sì e sarò un popolare per un'opinione in particolare nico schiera ieri era bello scatenato per cui commenterò due sue notizie che ha dato l'ho anche cercato per venire adesso vediamo se questo questo lasso di tempo 4 4 giorni magari si ritaglia un po di tempo per capire cosa come sta lavorando la la juventus sul mercato fermo cioè come sta seminando per il mercato che verrà perché inevitabile che la juventus non sia ferma immobile però prima di iniziare vi invito ovviamente a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto che è importante e vi invito a commentare ditemi le vostre opinioni sotto che poi vi leggo che poi prendo spunti per i prossimi video se avete una pillolina tac la prendo la faccio mia per il video successivo e ci crea un bel discorso quindi mi raccomando la prima notizia è legata a delle parole che sono arrivate da tiago motta tiago motta ha parlato per l'interessamento delle altre squadre tra cui la juve c'è anche il mila ci sono altre squadre interessate a lui ha parlato di questo interessamento delle big ok virgolettato per cui dice sono felice e orgoglioso ma non ci penso è un gran piacere il riconoscimento che hanno per la squadra ma non solo per i risultati che finora sono buonissimi quanto per la maniera con la quale li stiamo conquistando sul campo per cui mi fa piacere non ci penso che un po' una contraddizione in realtà no se ti fa piacere un po ci pensi di conseguenza nel senso non ti condizionano mi fa piacere ma questo non mi condiziona sono concentrato sul presente ecco forse questo è il senso è un grande piacere il riconoscimento delle squadre che hanno per la squadra anche intende per il bologna non solo per i risultati che sono finora buoni ma anche per il modo che ho di raggiungerli per cui vengo anche giudicato sul come e sul come ci sarebbe tanto da dire su tiago motta molti pensano a che sia il classico con i paraocchi tipo cavallo che va dritto e via non si muove invece no è un allenatore che sa adattarsi e pragmatico che nei momenti difficili studia la situazione che può secondo me svoltare quella partita può secondo lui in realtà svoltare la partita per cui è un allenatore che secondo me la certa flessibilità di pensiero non è un integralista è uno che mette tanto in discussione la squadra e cerca di piegare quelle che sono le abilità della squadra in base a quella che la partita in base all'avversario in base anche a delle contromisure quindi propone ma sa anche fare delle contromosse che la cosa più importante guardate bene un pugile che sa solamente dare i pugni ma non sa parare poi magari sapete che c'è che prende un pugno ne ha t20 30 ma quell'altro un po si sa difendere ne da uno ben dato e quell'altro che attacca non sa difendersi casca a terra comunale una pera cotta e tiago motta no tiago motta le sa dare le sberle male sa anche parare e sa dare poi anche la sberla di 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 richiamo per cui è sicuramente un allenatore che ha le carte di regola almeno sul piano gestionale tattico per fare il salto alla prima una squadra un po più importante una squadra che lotta per obiettivi superiori nella sua squadra però c'è un giocatore che fa gola tante squadre tra cui la juve ferguson lo scozzese sono nella sua terra oltre di tutto a quanto pare nelle settimane scorse c'è stato un incontro molto positivo tra la juventus e la gente del ragazzo per quanto riguarda un eventuale suo trasferimento alla juve a quanto pare la cifra richiesta dal bologna sarebbe una cifra vicine circa 25 milioni posso dirvi la mia è una cifra che guardando il mercato di qualche sessione fa è una cifra onesta perché se andiamo a vedere come è stato venduto fratesi altri cifre locatelli altre cifre ferguson è vero che quest'anno non esplua l'anno scorso ci aveva fatto assaggiare qualcosina ma quest'anno è veramente l'anno di grazia sta rendendo alla grande sta veramente rendendo alla grande sta facendo gol sta facendo assist eccetera tuttavia giocatore che mi preoccupa mi preoccupa perché mi pare il classico giocatore di sistema al un po come funziona l'atalanta con i giocatori dell'atalanta no che tirati fuori da quel contesto fanno fatica c'è ferguson mi pare un giocatore che ha grande intelligenza tattica sicuro ma sul piano tecnico balistico eccetera non mi pare che sia proprio eccellente idem nella tecnica individuale nel saltare l'uomo eccetera secondo me una gran comprensione del gioco e sa sfruttare sicuramente la sua comprensione del gioco a proprio piacere per fare gol per fare assist per per leggere bene le giocate però sul piano della fattura della giocata stessa non è che c'è è più bello il pensiero che ha ok che non l'esecuzione del gesto tecnico ecco non so se mi avete capito vedo vede dei traccianti interessanti vede del degli inserimenti interessanti ma nell'esecuzione secondo me il giocatore abbastanza normale vedete un po così non mi pare che abbia dei picchi e dei alti da quel punto di vista le cifre sicuramente sono oneste 20 25 milioni sono me ci possono anche stare per i giocatori come lui specie se stia in un ingaggio abbastanza basso però il classico giocatore che si è estratto da un contesto può può far fatica potrebbe far fatica c'è anche da aggiungere un'altra cosa però qualora arrivasse un tiago motta alla juventus avrebbe molto molto senso come tipologia di acquisto perché quel giocatore che alla juve manca abbiamo me kenny che è un po aperso quel tipo di di capacità offensiva se perdi e abbio e ragioni in ottica anche di sostenibilità economica l'ingresso di uno come ferguson è molto intelligente altro che e puoi ricavarne anche del valore poi magari mi sbaglio io nell'analisi che ho è perché fatta da un mio giudizio per cui questa analisi viziata da quella che la mia opinione su ferguson magari non è così diventerà un giocatore straordinario a quel punto la juve prende si trova un centrocobista della madonna ben venga felice di essere smentito però questa perplessità su questo ragazzo e non so se perplessità condivisa o perplessità che solo mia del mio immaginario del mio pensiero sono curioso poi eventualmente di leggere le vostre opinioni soprattutto su questo aspetto perché le parole di motta è chiara lui fanno piacere gli interessi interessamenti delle varie squadre della juve eccetera perché sa che quest'anno si sta giocando essenzialmente il salto nella nella squadra top mi farebbe estremamente piacere vedere dalla juve perché tutti dicono è andato all'inter sì ma ragazzi un professionista appunto mi hanno fatto un cazzo noi che abbiamo visto dire forza inter qua e di là eccetera a delle recensioni delle review tipo trip advisor da parte dei suoi ex colleghi sulla conoscenza che ha di calcio tiago motta che basterebbe quello ecco per avere un po di fiducia da quel punto di vista poi uno ragazzi vuole vincere anche l'allenatore la squadra conta fino a un certo punto c'è questo poi è partito dal brasile ma secondo voi si è affezionato poi all'inter solo perché ha vinto la champions per carità rimane un pezzo di carriera importante ci sarà un legame con quella squadra ma non significa essere anti juventino di riflesso tutt'altro gli allenatori intelligenti professionisti intelligenti lasciano sempre le porte aperte signori questo è tutto vi aspetto nei commenti che sono curioso di leggere perché sono curioso ci vediamo più tardi ciao belle